Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Anna-Lisa, scarrone, da meno di un mese la nota cantante è convoltata a nozze con il compagno Francesco Muglia. E ora ha deciso di parlarne per la prima volta. Anna-Lisa e il compagno Francesco Muglia si sono sposati in gran segreto il 29 giugno. Per la prima volta, a Vanity Fair, l'ex volto noto di amici ha deciso di parlare. Da sempre molto ansiosa e alla ricerca della perfezione, ammette di non aver dormito la notte prima del matrimonio. Ho dormito poco, pensavo solo ossessivamente a tutto quanto. E nello specifico che le persone sarebbero state bene, di creare un bel ricordo per ciascuna di loro. Lei invece era tranquilla perché dei miei sentimenti sono sempre stata sicura. Com'era stato ipotizzato in queste settimane Anna-Lisa e Francesco, si sono conosciuti due anni fa in occasione di un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. In quell'occasione non successe niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. Neanche sulla proposta di matrimonio Anna-Lisa si sbilancia troppo e racconta solo che è arrivata durante una vacanza. Il matrimonio è stata una scelta semplice. Lei da sempre si immaginava che si sarebbe sposata, ma non per l'abito o la festa, ma per celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari. Non pensavo neanche alla chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco. Alla domanda sul perché proprio lui però non riesce a trattenersi. Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c'è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento. Anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza. Poi la cantante si è lasciata sfuggire un loro prossimo desiderio. La coppia starebbe pensando anche ad un figlio. Anna-Lisa lo vorrebbe molto, ma non ci siamo ancora dedicati, ha precisato. Stare con lei non è facile. Stare con lei non è facile.